Una palazzina di tre piani brucia nel centro di Kyoto. Il maxirogo in poche ore ha provocato 24 morti, ma il numero potrebbe salire perché ci sono più di 30 feriti, alcuni gravi. Lavoravano tutti alla Kyoto Animation, uno dei più famosi studi di animazione giapponesi, considerato tra i migliori al mondo. Un uomo di circa 40 anni è entrato nella palazzina dove in quel momento lavoravano 70 persone, parte del gruppo fondato nel 1981. 1981 ha urlato andata all'inferno e ha versato liquido incendiario, dandogli fuoco. La polizia, dopo averlo arrestato, sta cercando di capire cosa lo abbia spinto a provocare la strage. I film di animazione giapponese, che conosciamo come anima e manga, prodotti dalla Kyoto Animation, sono quasi sempre ambientati nei licei. Raccontano il mondo degli adolescenti, di sfide sportive, di amori, di frustrazioni, della passione per la musica e di presenze extraterrestri. Raccolgono un numero impressionante di fan in tutto il mondo. L'azienda di Kyoto è conosciuta per il suo eccezionale settore tecnico e creativo. L'americana Sentai Filmwork, altro colosso di animazione di anime e manga con sede in Texas, ha già lanciato una petizione per aiutare lo studio giapponese.